buongiorno a tutti vi ritrovo stamattina per la lettura del 29 giugno da qualche giorno non ne ho fatto ho fatto tutt'altro quindi vediamo un po qualche messaggio per alcuni di voi per la giornata di domani 29 giugno prendete sempre ciò che risuona con voi cari amici sono messaggi generali che non possono parlare a tutti vi si può parlare in piccola parte come durante tutta la lettura come nulla quindi prendete ciò che fa veramente ecco con la vostra situazione con la vostra vita insomma il vostro vissuto queste sono energie che possono variare di qualche giorno ma non di più quindi adattate io vi ringrazio sempre per la vostra fedeltà vi ringrazio vi ringrazio per i vostri pollicini per le vostre condivisioni e andiamo a vedere un po quali sono i messaggi e cominciamo subito con l'energia per alcuni di voi per la giornata di domani 29 giugno vediamo un po l'energia allora qui c'è un qualcuno che deve prima prendere ad amarsi per poi essere amato siamo il rispetto di noi stessi quindi ciò che sta a dire che se c'è prima il rispetto per voi stessi potrete anche poi avere rispetto degli altri stranamente questa carta quindi l'energia per qualcuno di voi domani c'era amici e apprendere ad amarsi per essere amati ma non solo questa carta vi si parla anche eccola qua perché ci sono varie significazioni questa carta vi si dice espressamente che se voi avete bisogno di essere amati un po di più dovete prima essere in accordo con voi stessi e soprattutto dovete essere amorevoli e senza critica in verso gli altri dovete avere fiducia in voi e dovete essere più rassicurati con voi stessi c'è qualcuno che ha un manco di fiducia in sé non crede in sé ecco questo quindi vi siete un po limitati a non uscire dalla vostra zona di conforto perché non avendo abbastanza fiducia in voi non osate fare quel passo che vi fa uscire da questa zona di conforto questa carta vi incita vi è veramente un'incitazione ad amarsi ad accettarsi soprattutto per poter aprire nuove relazioni tutti i tipi di relazione ma dovete essere in fiducia con voi stessi dovete essere in accordo con voi stessi dovete amarvi dovete rispettarvi dovete dovete riprendere fiducia infetto c'è un qualcuno che magari per x ragione ha perso un po fiducia in sé non crede più in sé e qua tutto passa lavorando su di sé amatevi abbiate fiducia in quello che potete fare per poter creare delle nuove relazioni in tutti i sensi lavorative sentimentali amicali insomma rispettatevi amatevi accettate per poter attirare a voi le persone quindi qua mi si possa far pensare anche che c'è una persona che sia un po isolata che non ha troppe persone accanto a sé proprio perché c'è questo manco di fiducia quindi ritrovare un po di fiducia cari amici lavorare su di sé per attirare gli altri a sé ok andiamo a vedere un po 29 giugno 2022 29 giugno 2022 ok cominciamo subito qua comunque sono proprio le relazioni cari amici poi andiamo poi l'amore l'amore qua sono le relazioni qua ci sono i progetti il lavoro qua ci sono le finanze e il materiale poi finiamo con il consiglio dietro cosa c'è eccolo qua ecco perché vi dico che c'è qualcuno che ha perso fiducia in sé qua c'è un qualcuno che si progetta tanto non apprezza forse quello che vede nello specchio magari avete perso questa fiducia che ne so forse in seguito da un problema avete preso peso quello che vedete non vi piace comunque qua c'è quella nozione di dire che quello che vedete nello specchio di voi non vi piace e quello che voi vedete nello specchio di voi vi mette in difficoltà perché avete perso questa fiducia ciò che fa sì che allontana le persone da voi piuttosto che attirarle e ci sta pure a dire che ci sono alcune persone che vi dicono come mai hai perso questa fiducia come mai non t'accetti quindi le persone non capiscono perché c'è questa non accettazione di sé ecco perché vi si chiede di amarvi di avere fiducia di rispettarvi tutto passa prima da voi perché dovete ritrovare questa stabilità che qua non c'è c'è un qualcuno che si rispecchia e non ama quello che vede di sé comunque qua poi ci sono in amore per qualcuno c'è la comunicazione allora magari c'è per qualcuno una relazione a distanza ma qui ci sono degli scambi ecco sms lettera mail ci sono la carta ve lo mostra in amore ci sono degli scambi quindi si può parlare di relazione a distanza proprio forse per quelle persone che da un po di tempo non hanno più fiducia in sé e che hanno ritrovato il solo modo che hanno avuto insomma per avere una vita un po sociale anche in amore e di essere dietro un pc insomma no virtuale nella vita un po virtuale ecco qua perché questo è quello che vi rende più tranquilli per alcuni di voi cari amici per alcuni di voi visto che non vi sentite bene con voi stessi che avete anche paura come vi dicevo prima di far quel passo più grande della vostra gamba per poter uscire da quel cerchio che vi siete posti no dovete restare solo qui e non andare oltre per qualcuno vive una vita sociale dietro magari una vita virtuale un qualcosa di virtuale perché questo quello che vi appesa e questo che vi rende tranquilli perché c'è questa non accettazione quindi avete un po paura anche del di come gli altri vi guardano per qualcuno per altri mi si può parlare di relazione proprio dietro un pc che magari vi mette un po in difficoltà perché non sapete troppo no ma vi si dice che ci sono tanti scambi comunque sono scambi tranquilli poi vediamo con l'altro con l'altro oracolo se possiamo avere delle informazioni in più per altri altri tipi di relazione ma qua il principale messaggio è che c'è un qualcuno che corrisponde dietro il pc insomma via internet o telefono perché è una persona insicura ed è ciò che lo rende tranquillo per avere una vita sociale per altri si può parlare proprio di corrispondenza dovuta a una relazione sentimentale a distanza e vi procura comunque tranquillità quindi una relazione senza troppi problemi ma c'è comunque il problema di questa proiezione di doversi prima male forse non riuscite a fare quel passo in più per andare verso la persona per costruire un qualcosa con questa persona con la quale vivete a distanza perché magari avete dei dubbi sulla relazione magari avete dei dubbi non conoscete abbastanza la persona adattata vediamo un po nel relazionale nelle relazioni c'è un qualcosa di nuovo tutti i tipi di relazione lavorative familiare amicale ma si parla anche di relazione generale si parla anche di amore quindi per qualcuno può esserci un incontro da qui questi scambi per qualcun altro si parla proprio magari siamo nella relazionale magari festeggiare una nascita intorno a voi insomma e di un nuovo inizio di un qualcosa comunque che sta per cambiare nella vostra vita e qual il messaggio proprio che vi manda l'oracolo degli angeli dell'amore e di lavorare su di voi probabilmente se qualcuno accetterà di fa questo lavoro attraverso questo qualcosa di nuovo quindi si può parlare di nuovi amori si può parlare di nuove amicizie perché era proprio ciò che vi dicevamo all'inizio di lettura per attirare a voi le persone dovete essere nell'accettazione di voi accettarvi come siete e a partire da lì rispettandovi amandovi attirerete anche più persone da qui queste novità questi nuovi incontri e sì qua ci sarà con il verdetto il verdetto è la giustizia quindi probabilmente qualcuno di voi nelle relazioni farà questa scelta non so cosa sceglie ma ci sarà questa scelta con la giustizia di riequilibrare la propria vita quindi di essere onesti con se di essere onesto con se stessi magari per rifarsi fiducia per poter attirare a sé delle nuove amicizie dei nuovi rapporti quindi c'è un qualcuno che prenderà questa decisione per andare verso un qualcosa di nuovo quindi lavorare su di sé accogliere magari il consiglio di questa lettura perché le letture sono la per questo per evitarvi un qualcosa per darvi un consiglio perché quel 30 per cento del libro arbitro che abbiamo grazie comunque a certe letture possiamo cambiare un qualcosina quindi se siete all'ascolto di voi c'è un qualcosa di bello comunque che vi aspetta di nuovo vediamo sul lavoro allora sul lavoro per qualcuno c'è un qualcosina che non va ed è probabilmente anche grazie a ciò che forse qualcuno ha perso fiducia forse avete perso un lavoro comunque qua ci sono sensi di colpa o vi fanno sentire in colpa vediamo un po perché questo succede allora qua ci sono delle nuove opportunità sul lavoro cari amici allora magari avete questo senso di colpa perché più che senso di colpa quello che sento qua visto che siete un po persone rinchiuse perché non avete fiducia no non credete in voi io sento piuttosto questo senso di colpa come porsi delle domande ci sono delle novità per qualcuno di voi che delle opportunità no opportunità che comunque vi sono proprio date dal destino che vi sono destinate ma il fatto di non essere sicuri con voi stessi cari amici vi si mette in difficoltà allora per coloro che cercano un lavoro la possibilità c'è se siete stati licenziati se c'è stato un problema sul lavoro o da tanto tempo qualcuno magari vi fa pesare da lì che avete perso anche tutta fiducia in voi vi fa pesare che non avete trovato un lavoro qua ci saranno delle nuove opportunità vediamo un po per le finanze il materiale ecco anche sul finanziare sui soldi insomma no il materiale ci sono dei compromessi da trovare ci saranno degli accordi io per me questi accordi quali posso sentire anche proprio come un nuovo contratto vedete c'è dell'instabilità per il momento ma questa instabilità è dovuta a questi sensi di colpa che poi ancora una volta io vi ripeto i sensi di colpa che vediamo qua a me mi si dice piuttosto che c'è un qualcuno forse che vi fa pesare un qualcosa ma si parla proprio di insicurezza il fatto che voi siete insicuri vivete comunque sul lavoro e materialmente finanzialmente molta instabilità perciò voi dovete trovare probabilmente questi compromessi con voi stessi ecco da qui che vi si chiede di accettarvi di lavorare su di voi per poter riequilibrarvi e questo equilibrio ce l'abbiamo qua poi con questo verdetto con la giustizia dovete ritrovare un equilibrio per ritrovare la stabilità e le occasioni ce le avrete cari amici le opportunità ci saranno magari chiedete aiuto per farvi aiutare ma le opportunità ci saranno a voi adesso da di accoglierle accoglietele perché possa esserci un cambiamento nella vostra vita vediamo il consiglio c'è un'elevazione c'è un qualcuno che magari farà tilt questa lettura ma non solo che comunque riuscirà a elevarsi quasi si può parlare proprio anche di piccoli viaggetti magari prendere un po' di tempo per voi che ne so andare un po' a male se è un po' distante da voi ma anche c'è questa nozione di elevarsi elevarsi quindi fare un lavoro su di sé per riprendere questa fiducia e da qui l'elevazione per qualcuno c'è un po' di ritardo c'è un qualcuno che prende tempo a fare ciò prende davvero tempo a fare ciò ma le opportunità ce le avrete cari amici quindi accogliete queste opportunità perché questo ritardo insomma sia recuperato per potervi elevare e magari facendo un piccolo spostandosi un po' quando dico spostarsi voi potete anche solo fare degli spostamenti nella vostra città camminare, prendere aria veramente per cercare di capire che dovete uscire da queste proiezioni negative che avete su di voi stessi potete chiedere il sostegno degli amici per qualcuno vedete qua, qua c'è proprio la protezione cari amici quindi lavorate su di voi se non ci arrivate da sole fatevi dare una mano adesso andiamo a vedere con il secondo gioco così vediamo se ci possiamo avere qualche informazione in più per altre situazioni le energie saranno sempre queste però vediamo se possiamo avere qualche informazione in più su altri tipi di relazione o altro tipo di problema e prendete sempre ciò che fa risonanza con voi a metà interamente o per nulla ma prendete ciò che risuona con voi per questo 29 giugno allora andiamo a vedere il sentimentale il relazionale il lavoro i progetti le finanze il materiale per finire c'è il consiglio qua dietro c'è l'incoscienza cari amici ecco ok nel sentimentale si parla di una donna quindi probabilmente qua ci può essere una donna che si trova in queste difficoltà in questa situazione ma non solo adattate al genere che siete e alla persona che potete avere di fronte a voi ma l'energia che prevale l'energia femminile il ying sapendo che il ying che la donna è comunque un'energia molto intuitiva molto dolce molto tenera cercate di essere un po' più dolci con voi stessi di essere ascolti di voi stessi per poter uscire da queste pensieri negativi da questa non accettazione e insicurezza che avete su di voi questo è quello che mi sento ecco qua ok allora vediamo un po' sulla donna il 29 giugno nel allora cari amici io qua c'ho proprio la donna e l'uomo ecco qua quindi qua si parla di una coppia probabilmente c'è una coppia forse che vive anche momenti di instabilità di insicurezza nel proprio rapporto perché c'è una delle due persone che affronta questo momento personale difficile di perdita insomma come dire di perdita della personalità nel senso che non ha più fiducia in sé ecco ma qua si parla proprio di una coppia e siamo nel sentimentale quindi vediamo un po' se posso avere un qualcosa c'ho la coppia ma allora per qualcuno c'è ecco qua qua si può parlare eventualmente di una coppia che si riunisce ma noi abbiamo visto prima che ci sono delle coppie che sono a distanza per qualcuno probabilmente qua c'è uno scambio ci sono gli scambi tra questa coppia ci sono tanti scambi avevamo la comunicazione per qualcun altro può essere un qualcosa di ufficiale cari amici ma guardi qualcuno ecco non tutti sono nella stessa situazione è una lettura generale per qualcuno può esserci proprio l'unione o comunque questo questo fare un passo in più per per ufficializzare forse anche la relazione e per altri si può parlare di rivelazioni quindi adattate nelle relazioni in generale siete comunque protetti io ve le dicevo prima che siete comunque sostenuti da persone dalla famiglia che possono aiutarvi quindi chiedete aiuto vedete qua si può parlare di un qualcuno dei segni di pesci ma non solo qua si parla della luna la luna è questa energia femminile cercate di utilizzare questa energia femminile che è più dolce che è più intuitiva quindi restando all'ascolto di voi essendo meno duri con voi stessi per poter uscire da queste proiezioni comunque qua allora c'è un desiderio che vi tiene a cuore nelle relazioni in generale la relazione può essere anche comunque poi associata all'amore quindi se c'è un qualcuno che vive male anche come vi dicevo prima c'è chi vive una vita sociale dietro i social perché c'è questa non accettazione di sé questa paura di andare verso gli altri magari c'è comunque il desiderio di voler uscire da questa situazione e vi si dice che siete comunque protetti dalla vostra bella stella guardate l'ottimisto siate fiduciosi lavorate su di voi per il momento ci sono troppi dubbi per voi ci sono tante paure per voi c'è un qualcuno magari che ha proprio la fobia anche di sta in mezzo agli altri perché no ma potete farcela perché avete la stella cari amici potete farcela quindi fatevi aiutare se non ci arrivate ma potete farcela certo che per qualcuno è difficile attualmente poi magari siamo nel relazionale qua quindi magari per qualcuno apprenderà nella relazione sentimentale un qualcosa con questo libro ciò che metterà un po' di oscurità nella coppia ma la cosa come dire ecco ci sarà una speranza perché con questa stella se magari c'è tant'amore ciò che apprenderete non lo so ma poi ognuno adatta e ognuno certo fa le proprie scelte ma probabilmente in una coppia c'è qualcuno che rivelerà qualcosa o comunque ci so c'è la nozione di rivelazione come segreti come venire a conoscenza di un qualcosa che metterà un po' di instabilità ma guardando l'ottimismo c'è la speranza che un desiderio s'avvera o semplicemente che la situazione s'aggiusta vediamo sul lavoro allora sul lavoro qua c'è la nozione di tagliare con qualcosa ok vediamo un po' è la fortuna allora qui mi si sta a dire che se c'è qualcuno che non ha lavoro però ci saranno delle proposizioni se c'è un qualcuno che deve andare in pensione ecco c'è questa fortuna che viene con voi anche se è un po' difficile forse lasciare questo lavoro che avete fatto da tanto ma andrete verso un qualcosa di più pesibile per voi e vi saranno dei bei momenti da condividere in famiglia e profittare solo un po' per voi per altre persone c'è proprio l'idea di dirsi di mettere fine a un qualcosa per andare verso un qualcosa di migliore vediamo per le finanze il lavoro e anche qui voglio sapere finanze finanze materiale e unita al lavoro anche qui vi si dice che si deve spazzare via un qualcosa c'è un qualcosa che dovete spazzare via amici e probabilmente dovete essere anche un po' intelligenti un po' più rusi un po' più come si dice sì dovete fare prova di macchiavellico un po' per poter spazzare via questi problemi economici per andare verso un qualcosa di migliore quindi magari fare la scelta di lasciare un lavoro perché avete una nuova proposizione che è migliore o magari avete un progetto che può essere migliore del lavoro che fate qua comunque poi c'è poi questa nozione di le persone che non hanno un lavoro e che sono in difficoltà economiche che ci sarà un qualcuno che saprà fare prova di furbizia per sbloccare la situazione il consiglio c'è un qualcosa di nuovo cari amici l'avevamo anche proprio prima comunque qua c'è un qualcosa di nuovo avete delle opportunità qua c'è l'inizio di tante cose può essere un trasloco può essere un amore può essere una nascita può essere una gravidanza può essere un nuovo progetto ci sono tante possibilità che si offrono a voi per questo lavorate su di voi perché per qualcuno c'è un qualcosa di bello per poter ritrovare quella coscienza qua si parla di inconscienza può essere legata ad un uomo ma per andare verso un qualcosa di meglio lavorate su di voi cari amici perché la situazione per voi può cambiare e ci sono delle novità in arrivo quindi per coloro che cercano un lavoro può essere ecco la notizia che potete avere un nuovo lavoro potete anche intrattenervi forse con un datore di lavoro per un colloquio poi qua avevamo queste rivelazioni nella coppia quindi comunque il messaggero è portatore di messaggi eccola qua eccola qua cari amici proprio dietro senza farlo apposta quindi per qualcuno c'è comunque come dire posta per te ci sono questi scambi dietro all'ordinatore quindi la corrispondenza poi si parla di queste rivelazioni qua si può parlare anche semplicemente delle persone i documenti che ricevono perché partono in pensione per qualcuno si può parlare non è ufficialmente il contratto ma comunque di avere una possibilità di avere un colloquio vedete e per qualcuno mi viene proprio così adesso questo messaggio ci sarà qualcuno che si farà aiutare a lavorare su di sé perché capisce che non può vivere così deve affrontare le fobie se non sono fobie che sono dovute a una delusione comunque a una vita un po' dura tutto ciò si lavora e lavorando tutto ciò il meglio arriva a voi cari amici quindi molto bello per qualcuno ecco è rinchiuso in casa per altri è un problema familiare ecco qua comunque questi sono i messaggi per la giornata del 29 giugno io vi ringrazio per sempre per la vostra fedeltà le condivisioni i pollicini e gli abbonamenti prendete ciò che risuona con voi cari amici e vi auguro di trascorrere una bella giornata al presto ciao ciao